A Pennabilli la guida turistica si è trasformata in un vero e proprio spettacolo. I racconti della lumaca sono diventati in un paio di anni un punto di riferimento per chi vuole visitare il centro storico e i luoghi dell'anima ideati dal poeta Tonino Guerra, un insieme di frammenti della vita del paese che unisce cultura, turismo e teatro in un contesto poetico. Un piccolo gruppo di spettatori viene accompagnato dal signor Lumaca lungo un percorso nel centro storico. Immersi in un viaggio fantastico insieme a magici personaggi, i visitatori hanno l'opportunità di scoprire i segreti della storia di Pennabilli, recente e lontana. Una riflessione sul tempo, sui pensieri e sull'anima, lungo i viottoli e le stradine arroccate di Pennabilli. Una storia surreale cui i protagonisti sono gli stessi spettatori, invitati ad assaporare il gusto lento del tempo. Il prossimo appuntamento con i racconti della Lumaca è fissato per domenica 29 settembre, all'interno della sesta edizione degli antichi frutti d'Italia si incontrano a Pennabilli.